Lei entrò sulle scale, qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so, mi disse, non so come uscirne fuori, non lo so. La guardai ed ebbe un momento di pena perché sembrava smarrita. Io vorrei, mi disse, vorrei che non fosse così, ma è proprio finita. Disse poi, ritrovando un sorriso astetto, comunque l'ho voluta. Lo sai, le strade per farmi del male non le sbaglio mai. Poi mi raccontò la storia che io sapevo già, dall'ultima volta si sentiva che era più sola e più sentiva. Si calmò, guardandosi intorno e parlammo di me, bevendo più volte. Si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse, con te ero viola più forte. Disse poi, inseguendo un pensiero, è vero, con te io stavo bene. E se io fossi una donna che torna, è qui che tornerai. Poi, ceniamo qui, le chiesi domani. Mai, la pioggia va a te, ma sui balconi, risposta e ci vende mani. Mi svegliai la mattina e sentì la sua voce di là. Parlava in inglese, la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè. E non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi non cambiare mai da come sei. Oggi, insegnando via, del modo che io sapere già. Passava un asidio prese al volo, abritura di despesa insolo. Grazie. Grazie. Mario.